Musica Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della casa della pallamano il format che qui sul Rete8 Sport si occupa di pallamano, di pallamano italiana a livello nazionale, quindi il Campus Italia, soprattutto le attività del Centro Tecnico Federale che fa base qui a Chieti e del Campus Italia, ma al tempo stesso parliamo ovviamente anche di pallamano abruzzese e in tema di pallamano abruzzese con grande piacere do il benvenuto qui al mio fianco al primo dei due ospiti di oggi, il nuovo neopresidente del Comitato regionale FIGH Abruzzo, Franco Chionchio, ciao Franco Ciao Matteo, buonasera a tutti Naturalmente parleremo anche di Campus Italia e allora siamo andati a pescare un azzurrino come al solito, come ogni settimana, ciao Alessandro Cavo Ciao a tutti, ciao Matteo Centrale del Campus Italia Franco, come stai innanzitutto? Bene, bene, mi sono rifatto un po' di pallamano alle finali nazionali dal vivo devo dire che la crescita è evidente, che vedere in televisione oppure non dava l'impressione, adesso devo dire che ci sono state belle partite, soprattutto molto tirate come si andate anche a finire Naturalmente sei sempre rimasto comunque all'interno del mondo della pallamano perché hai seguito segui ancora la presidenza della Lions Teramo, società del campionato di Serie A2 quindi una società che peraltro è ai vertici del campionato di Serie A2 Sì, diciamo che c'è qualche problemino all'interno da sanare però sì, abbiamo una squadra di A2 che va molto bene, la B che va benissimo, campionato imbattuto, settore giovanile, c'è parecchia carne al fuoco, diciamo così, c'è un bel movimento nella nostra città, è chiaro che si deve fare molto di più per arrivare ad avere dei vertici insomma importanti anche tecnicamente Per riportare indubbiamente Teramo nel massimo campionato una delle città in assoluto di maggior tradizione del movimento nazionale della pallamano c'è un grande movimento anche a Chieti all'interno del centro tecnico ormai abbiamo imparato a conoscere quello che riguarda proprio la casa della pallamano e in questi giorni si è chiuso, si è tenuto e si è chiuso l'ultimo modulo del corso allenatore di terzo livello perché ne parliamo? Perché a Chieti è arrivato Lino Cervar uno degli allenatori di maggior fama a livello mondiale non solo un grande nome della pallamano italiana perché è stato l'unico allenatore a portare l'Italia nel 1997 ai campionati mondiali ma anche perché ha fatto la storia poi della pallamano vincendo la medaglia d'oro ai giochi olimpici tra le altre medaglie di Atene 2004 con la Croazia lo abbiamo ascoltato perché parla anche del Campus Italia Sono molto contento quando vedo che dopo di me questa storia va avanti vedo il nuovo palazzetto, casa della pallamano, vedo amici guarda non è poco comincia ad essere emozioni devo ancora una volta ringraziare quella federazione ma anche quella mia generazione anni 96-97 non si possono dimenticare quelle qualificazioni dove noi prima volta nella storia siamo andati nel campionato del mondo Kumamoto una volta ancora devo ringraziare tutti i miei cari giocatori perché mai non ho vissuto così una squadra che è attaccata come una famiglia siamo stati sono molto orgoglioso su di loro tutti non voglio neanche parlare di nomi perché se Timio era capitano sappiamo adesso non voglio nessuno mettere fuori perché tutti hanno contributo in questo grande successo dico quando vedo questo che la nostra novella va avanti come qui vedo che anche nuovi dirigenti seguono questa mia idea anche che l'Italia ha tutte le potenzialità con i nostri bambini di fare il risultato e io adesso vedo una casa di pallamano qui che non sono molte nazioni che hanno questo allora la porta è aperta per tutti, tranquillità di lavorare, le condizioni di lavoro sono ottime allora voglio davvero fare complimenti a tutti perché è una cosa che proprio sono stato non so, impressionato un po' Franco, un grande nome indubbiamente della pallamano fa sempre piacere vedere e tornare Lino Cervar sul territorio italiano Beh, Lino ha carisma da vendere lui può fare qualsiasi lezione parlare di pallamano ma senza parlare di pallamano ed è sempre sentirlo, è sempre costruttivo io devo dire che il corso di terzo livello a suo tempo l'ho fatto anche con lui sì, è una persona carismatica ha saputo ottenere il massimo anche da allenatore però come, diciamo così, persona che segue i corsi io ce lo vedo perché a livello psicologico è uno molto molto capace tra l'altro un allenatore che ha vinto titoli olimpici, ha vinto i campionati mondiali ha vinto anche a livello di club con lo Zagabria con il Bardar, la squadra di Scopia in Macedonia del Nord e che ha elogiato il centro tecnico di Chieti e qui ti riporto un po' sul territorio, su quello che la federazione ha realizzato in questi mesi all'interno del centro tecnico federale accanto hai un esponente, Alessandro Cavolo sì, ma come si può non elogiare l'insegnamento del campus nella nostra regione è chiaro che questo è il primo anno, a fine anno si siederanno a tavolino vedranno degli accorgimenti però avere una struttura, come dice anche la casa da pallamano è spettacolare averla qui nella nostra regione ti rende ancora più orgoglioso di questo sport indubbiamente e all'interno della casa della pallamano, proprio in questi giorni la nazionale Under 18 sta preparando il suo primo appuntamento in campo internazionale ufficiale ovvero i campionati mediterranei dell'handball che si svolgeranno nel corso della prossima settimana ad Ankara, la capitale della Turchia Alessandro Capo è tra i protagonisti di questa nazionale, tra i protagonisti del campus Italia il centrale del campus Italia intanto com'è andata con Lino Cervar perché vi ha seguito insieme a Riccardo Trillini che è il vostro direttore tecnico e poi se sei pronto a questo appuntamento? ci siamo preparati comunque negli ultimi mesi ci siamo sempre ritrovati per allenarci e prepararci per questo primo esordio in campo internazionale speriamo vada bene anche aver avuto un allenatore come Lino Cervar in questa settimana è stata un'emozione unica vederlo dal vivo perché l'avevo visto solo in televisione è anche un onore allenarsi con lui come c'è stato utile è un pochettino adesso quello che vi aspetta in Turchia un primo banco di prova per capire perché voi state giocando il campionato di Serie 2 questo lo ricordiamo sempre con la maglia del campus Italia adesso si aggregherà qualche altro ragazzo che non fa parte del campus Italia ma che viene comunque convocato in nazionale e adesso affrontate i vostri coitani coitani che arrivano anche nel caso dei campionati mediterranei dalla Spagna, dalla Croazia quindi nazioni con una grande tradizione di pallamano però voi avete una sorta di piccolo vantaggio competitivo quello di vivere insieme e giocare insieme tutti i giorni esatto, esatto dobbiamo riuscire a sfruttare appunto questo vantaggio dell'intesa che stiamo creando e che abbiamo creato in questi mesi e speriamo di riuscire a sfruttarla al pieno vediamo il servizio vediamo quello che aspetta proprio i ragazzi della nazionale under 18 la stragrande maggioranza arrivano proprio dal blocco forte dal nucleo del campus Italia la prossima settimana ai campionati mediterranei in Turchia switch da campus Italia a nazionale azzurra il passo è breve i ragazzi della squadra federale che fanno base nella casa della Palamano di Chieti ci sono abbastanza abituati questo va detto e allora in archivo il campionato ed è tempo di pensare a ciò che accadrà nel corso della prossima settimana ad Ankara capitale della Turchia per la prima volta i ragazzi della nazionale under 18 per l'arghissima parte composta proprio dai talenti del campus Italia scenderà in campo in una competizione ufficiale di oltre confine in programma ci sono i campionati mediterranei di categoria dove in un torneo a 10 squadre Tommaso De Angelis e company potranno incrociare tra le altre avversari come Croazia o Spagna due delle scuole di Palamano più vincenti al mondo mai come stavolta l'Italia giovanile guarda con fiducia ciò che l'attende il lavoro di altissimo profilo portato avanti proprio in Abruzzo giorno dopo giorno con il campus Italia da alla nazionale almeno sulla carta una sorta di vantaggio competitivo da non sottovalutare i giovani migliori nel posto migliore la casa della Palamano seguiti da uno staff di prim'ordine insieme tutto l'anno ritrovare in nazionale i compagni del club in blocco è l'asso che la federazione vorrà calare in Turchia certo ma ancora di più in Montenegro questa estate quando dal 4 al 14 agosto gli azzurini giocheranno i campionati europei under 18 a proposito sorteggio il prossimo 24 febbraio a Vienna Italia in terza urna ma soprattutto Italia tra le migliori 16 d'Europa l'obiettivo sarà rimanere lì il sogno invece è quello di volare ai mondiali under 19 dell'estate 2023 in Croazia siccome mentre il servizio andava in onda qui a microfoni spenti si chiacchierava di Palamano perché insomma è inevitabile questo Franco ti chiedo tu questi ragazzi li hai visti giocare nel campionato di Serie A2 perché li avete affrontati come Teramo in più sei un profondo conoscitore segui naturalmente la Palamano italiana e non come collochi questo progetto poi nel campo internazionale e anche alla natura nazionale conosci quello che ci aspetta ai campionati mediterranei con i nostri pari età beh guarda io di mondiali le mie chiaccine ho fatti tre e devo dire che non c'era l'organizzazione che c'è adesso soprattutto con i ragazzi li vedevamo pochissimo e anche molte volte anche l'ultima l'ultima settimana facevamo tre quattro giorni insieme questo adesso questo step sono veramente curioso di vederlo perché sì loro hanno fatto un campionato di B sono stati di A2 sono stati tutti i giorni insieme però con i pari età si deve vedere la grande crescita io sono convinto che con questo tipo di progetto sono curioso di vedere in Turchia che miglioramenti abbiamo con i pari età diciamo loro Alessandro tu stavi parlando con Franco proprio dei miglioramenti che riguardano gli allenamenti ma non soltanto poi il vivere insieme aiuta a stare meglio in mezzo al campo sì sì come dicevo prima da inizio dell'anno credo che li abbiamo visti tutti i miglioramenti che abbiamo fatto e anche io li vedo e li sento non solo per il rapporto e l'intesa che abbiamo in campo che abbiamo creato in questi mesi ma anche fuori dal campo vivendo insieme ci è creata una vera amicizia e questo ti aiuta molto in campo anche perché Franco l'unica pecca è Maione però va bene allora adesso te lo faccio ascoltare Pasquale Maione naturalmente si scherza lo hai allenato mi conoscete benissimo sì assolutamente è stato capitano della mia squadra della Nazionale Azzura storico capitano della Nazionale Pasquale Maione ora vice allenatore non mi ha fatto fare un playoff però va bene mi ha sbagliato un rigore è vero è vero ora vice allenatore del Campus Italia e con lui abbiamo chiacchierato proprio del prossimo impegno degli azzurrini in Turchia diciamo che i ragazzi sono abituati perché alla fine quando c'è la nazionale si aggregano un paio di ragazzi e quindi ormai ci conosciamo tutti a memoria anche i ragazzi che vengono da fuori si adeguano subito al ritmo di lavoro sì primo banco di prova internazionale i ragazzi non vedono l'ora di partire e noi dello staff anche non vediamo l'ora di arrivare là per vedere a che punto siamo nel nostro lavoro anche con la consapevolezza di avere un po' di occhi addosso perché tutto quello che si fa chiedi adesso va messo alla prova contro i coitani di questi giocatori sì 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 hai detto bene sappiamo anche che non è questo il nostro obiettivo cioè questo è un torneo di avvicinamento a quello che poi sarà il nostro obiettivo principale che è in Montenegro quest'estate però è chiaro che ci andiamo a confrontare con altre realtà a livello europeo e alla fine ci renderemo conto se la strada è quella giusta se siamo all'altezza se andiamo bene così cosa dovremmo modificare non vediamo l'ora insomma è impossibile ovviamente collocare le nazionali under 18 perché sono ragazzi sono bienni nuovi che entrano in campo internazionale però visto che già negli ultimi due bienni quello dei millennials e quello dei 2003 2002-2003 l'Italia è riuscita a posizionarsi comunque in una buona fascia secondo te il fatto da adesso di avere il campus Italia può permetterci di fare ancora un passo in avanti ancora di salire un gradino in ambito europeo spero proprio di sì e credo anche proprio di sì perché indubbiamente i valori storici delle nazionali saranno sempre quelli nel senso è chiaro che la Croazia la Spagna la Francia saranno sempre le squadre da battere perché le tradizioni a lungo andare le senti noi è il primo anno l'Italia è il primo anno che fa un lavoro del genere di questa grandezza con questo campus vediamo subito se possiamo raccogliere immediatamente i frutti o dovremmo aspettare ancora un po' ma io sono veramente molto positivo penso che ci accorgeremo fin da subito il lavoro svolto in questi sei mesi Alessandro tu sei arrivato a Chieti da Tortona in Piemonte giovanissimo il discorso che facciamo per tutti gli altri ragazzi cambio di scuola cambio di vita otto allenamenti alla settimana il sabato si gioca siamo arrivati a febbraio quasi marzo come vai innanzitutto ti chiedo come ti sei abituato a questo ritmo forse è nato sì sì oramai mi sono abituato era un po' dura all'inizio ma ne ero consapevole c'era solo bisogno di un'organizzazione di abituarsi alla fine anche col cambio di scuola però devo dire che siamo stati accolti bene ci hanno integrato molto bene Franco bisogna dire che da un punto di vista giovanile come Palamano Azzurra c'è stato uno sprint un'accelerazione negli ultimi anni dai 2000 a 2001 che hanno vinto il campionato europeo di seconda divisione a Tbilisi quest'estate poi la generazione dopo si è piazzata a dodicesima su 16 però tra le 16 migliori d'Europa quest'estate ci saranno due nazionali ai campionati europei under 18 e under 20 e in più i ragazzi più piccoli vedono quello che c'è a Chieti quello che c'è al campus Italia quindi la possibilità di un futuro dove la Palamano può essere una priorità quanto è importante che ci sia tutto questo è il viatico che si deve seguire questo è un progetto fantastico è chiaro che si devono ogni anno ci saranno degli accorgimenti ma soprattutto per esempio lui che viene da una situazione penso che faceva due o tre allenamenti a settimana adesso è difficile tornare indietro perché una volta che ti abitui fai l'atleta il professionista e lo cominci a fare dai 18 anni in su chiaramente come hai detto tu quelli che devono arrivare già sanno a che cosa vanno incontro è chiaro che il progetto è da qua i frutti si vedranno fra 5-6 anni però a livello giovanile ripeto per le MHC che si terranno in Turchia sono veramente molto curioso di vedere ma sicuramente faranno risultati positivi perché stare insieme anche l'allenatore che sta tutti i giorni con perché prima il selezionatore della nazionale non è l'allenatore invece in questa situazione è tutte e due le cose sia allenatore che selezionatore quindi i benefici in nazionale si raccoglie il frutto del lavoro dei club qui abbiamo club e nazionale ma non solo ma il selezionatore può averli una settimana 10 giorni quindi non è che può fare delle programmazioni invece qua hai tutta la possibilità di programmare e selezionare quindi è l'ottimo per un allenatore incrociamo le dita naturalmente incrociamo le dita anche per il sorteggio che si terrà per i campionati europei il prossimo 24 febbraio adesso andiamo in pausa e poi torniamo perché parliamo di serie A2 di serie B e quindi ripala mano abruzzese di nuovo in studio per parlare di pallamano abruzzese iniziamo dalla serie A2 dove osserveranno adesso alcune settimane di pausa sia la Lions Teramo nel girone B al maschile che è la nuova in Volteramo al femminile invece la Hogan a Pescara sempre nel campionato di A2 maschile sempre nel girone B dopo i rinvii causati dal covid delle settimane scorse martedì affronterà la verde-azzurro Sassari ascoltiamo la serie A2 la serie A2 si ferma non ci saranno gare e ci sarà invece il tempo per riflettere sia al maschile che al femminile su quanto fatto fino ad ora le donne vanno in pausa per oltre due settimane niente partite per la nuova Endwall Teramo fino al prossimo 5 marzo quando le Biancorosse capolista imbattuta del gruppo D troveranno sulla loro strada le campane del Salerno e soprattutto ritroveranno la Pala San Nicolò stessa città ma un solo weekend di stop per la Lions Teramo tra gli uomini l'inizio di 2022 dei ragazzi allenati da Fonti è stato altalenante le due sconfitte contro Sassari e Chiaravalle imponevano una reazione a Di Marcello e compagni bravi sabato scorso a riprendere con un netto 39-29 casalingo contro l'Ambra Prato dell'ex di turno Luca Maraldi nonostante il secondo posto sinonimo di accesso ai play-off sia ora piuttosto distante Teramo resta in corsa per le posizioni di vertice ma molto passa per il recupero di mercoledì contro la capolista Cingoli sfida delicatissima tra le muramiche torna finalmente in campo anche l'Augan Pescara dopo tre rinvi consecutivi causati dalla positività alla Covid i biancazzurri martedì recupereranno in casa la sfida contro Sassari match in salita per gli adriatici contro una delle squadre più in forma del girone B ma Pescara che non vince da oltre due mesi ha bisogno di ridare verva al proprio percorso di neopromossa organico al completo per raccoccio Michele Mastrangelo che ritrova anche Simone Pellegrini sulla linea dei Terzini alla pala Giovanni Paolo II martedì sera fischio di inizio alle 20 vediamo la classifica in grafica tenendo in considerazione gli impegni di questa settimana ovvero il Pescara che come detto affronterà martedì il verde-azzurro Sassari e Teramo che poi dovrà affrontare invece anche in questo caso in un recupero la Santarelli Cingoli la capolista di questo girone in questo momento non lo è ma deve recuperare delle partite come quella contro Teramo appunto Franco un giudizio sulle formazioni abruzzesi e anche sul cammino del Campus Italia beh diciamo che le abruzzesi sono comportate molto bene solo il Pescara ha avuto un cedimento diciamo il girone di ritorno però era partita la grande ha vinto 8 partite su 9 mi sembra noi abbiamo fatto un campionato regolare l'unica pecca diciamo così se si può chiamare è la partita di recupero con il Sassari che ci poteva proiettare in una terza posizione comoda invece adesso dobbiamo lottare con loro fino alla fine però tutto sommato abbiamo fatto un ottimo campionato adesso abbiamo due partite da recuperare il 23 martedì prossimo a Cingoli e poi il 16 marzo con l'Imola in casa sulla carta non abbiamo le prime due della classifica non abbiamo speranze però devo dire che all'andata sia con il Cingoli che con Imola ce la siamo giocata abbiamo perso di uno con Imola mi sembra e con due con Cingoli adesso non stiamo attraversando un momento positivo la partita di sabato con l'Ambra abbiamo recuperato dei giocatori anche se il primo tempo insomma abbiamo sofferto un po' il secondo è andata è andata bene quindi dobbiamo recuperare un po' lo spirito per rimetterci in carreggiata nel senso delle prime posizioni ecco non c'è l'ambizione per quanto riguarda il campus già è stato detto che ci sono stati dei miglioramenti incredibili immagino che sono tutti ragazzi giovanissimi quindi molte partite soprattutto all'inizio l'hanno perso per inesperienza per non essere stati maliziosi negli ultimi momenti della partita ho visto una crescita molto molto grande nella partita con il Cingoli che si è giocata punto a punto cancelliamo Bologna diciamo che vi ha fatto arrabbiare Bologna non Bologna come squadra la sconfitta diciamo che non è stata piacevole però bisogna anche passare da queste sconfitte vabbè sono stati bravi Bologna stava a zero punti li hanno aiutati anche perché il Bologna la partita successiva è andata a pareggiare quindi da lì ha fatto qualche punto in più no diciamo che il campionato a questa coppia davanti che secondo me hanno tutte le caratteristiche per 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 giocarsi la la prima divisione ritrova il campo come dicevamo la Hogan a Pescara dopo quasi un mese di pausa dopo quasi un mese di assenza a causa dei casi di positività al Covid che si erano verificati nell'organico adriatico e allora in vista della sfida contro il verde-azzurro Sassare di martedì sera alla palla Giovanni Paolo secondo di Pescara siamo andati ad ascoltare le impressioni e le sensazioni del tecnico dei biancazzurri Michele Mastrangelo devo dire anche che è un momento difficilissimo che però stanno attraversando un po' tutti hanno attraversato tutte le squadre chi più chi meno certo dalla nostra per motivi nostri già le sedute di allenamento non sono tante e comunque abbiamo trascorso più di tre settimane allenandoci con solamente cinque sei massimo sette giocatori quindi il che ha reso il tutto veramente molto molto più complicato però ripeto la questione noi dobbiamo focalizzarci sugli obiettivi e non su quello che ha funzionato un po' meno quelle che sono state difficoltà quelle più o meno le abbiamo superate un po' con grandi difficoltà o meno ma insomma si guarda avanti e guardiamo avanti al Sassari che è in strepitosa forma ha battuto il Teramo ha battuto il Follonica in casa del Follonica quindi è una squadra che gira a pieno ritmo ha dei giocatori interessanti e per cui sarà tutt'altro che facile noi sono due allenamenti che ci stiamo allenando di nuovo al completo solamente da da due allenamenti però insomma ripeto mentalità e focus è volto agli obiettivi ai treguardi e non alle difficoltà che abbiamo incontrato o che incontreremo ancora cioè ci rimetteremo in piedi e tornerà tutto quanto al meglio contento anche del ritorno di Simone Pellegrini che ci darà comunque che ci darà una buona mano non abbiamo tantissimi terzini ultimamente per cui ogni giocatore ci dà una grande grande mano in questo periodo vediamo in grafica anche la classifica del campionato di serie A2 femminile in particolare il girone D dove Teramo è in attesta con 18 punti e ha staccato la retusa grazie alla doppia vittoria nello scontro diretto anche in questo caso bisognerà aspettare qualche settimana il 5 marzo Teramo tornerà in campo per recuperare la sfida contro il Salerno vedremo naturalmente come andrà un cammino fino ad ora netto della formazione terramana è tempo di passare alla serie B prima di passare però alla quotidianità Franco Chionco al campionato neo eletto presidente del comitato FGH Abruzzo la serie B in qualche modo oltre ai campionati giovanili è un po' a livello di movimento il punto centrale il core business del comitato insieme alla promozione della palla a mano e allora ti chiedo che movimento abruzzese abbiamo in questo momento e soprattutto dove vogliamo andare a tendere anche e soprattutto considerando il fatto che in Abruzzo lo dicevamo nella prima parte c'è il centro tecnico federale l'ambizione è quella di cercare di incrementare formazioni di B soprattutto con anche con formazioni di ragazzi perché è un diciamo la A2 per i ragazzi è ancora troppo a meno che non c'è qualche talento però noi a Terramo abbiamo la B e la A2 e devo dire che sono dei ragazzi che non avrebbero mai potuto mettere il piede in campo con la prima squadra e invece così nell'arco dell'anno si sono ritagliati dei minutaggi e diciamo che il prossimo anno potrebbero già far parte della prima squadra hanno fatto un rodaggio e questo è molto importante a livello l'abruzzese secondo me ci sono delle delle piazze storiche anche come l'Aquila Vasto che dobbiamo cercare di andare a recuperare vediamo anche facendo qualche sacrificio però gli amici di queste due città devono rientrare perché si stanno da tantissimo tempo non abbiamo troppo poche società abbiamo dieci società dobbiamo incrementarle soprattutto a livello giovanile dobbiamo cercare di entrare un po' più nelle scuole con progetti insomma lavoro da fare c'è non possiamo dire che chi c'è stato prima non ha fatto è molto molto difficile soprattutto in questo periodo che c'è stato covid che nelle scuole non si è potute entrare però ci rimbocchiamo le maniche con l'apporto di tutti non è che chi ha votato chi non ha votato non ha nessun significato adesso si deve andare tutti nella stessa direzione insieme e far capire anche a chi non ha votato ma non credo che non ha votato perché per la persona si sa in politica ci sono delle adesso far ricredere che il lavoro da fare io lavorerò per tutti non solo per chi ha dato la dimostrazione di avere fiducia in me questo è poco ma sicuro e in questo come dicevo provare a sfruttare anche il volano promozionale rappresentato da tanti eventi che si svolgono qui a Chieti perché questo vuol dire accendere i riflettori molto spesso sulla nazionale tra l'altro spesso anche sulla pallamano di alto livello perché qui c'è spesso la pallamano azzurra sì ma io vorrei parlare anche con il settore tecnico che è qui a Chieti per portare anche fare delle amichevoli fare degli stage dei ragazzi più particolari tecnicamente validi farli allenare far vedere dove possono andare cioè ci deve essere più sinergia anche perché ce l'abbiamo qua tra virgolette sfruttiamolo in senso positivo della questione vediamo quello che è successo invece nel campionato di Serie B torniamo un po' alla pallamano giocata alla pallamano di tutte le settimane di tutti i giorni campionato di Serie B che vede alla comando della classifica la Lions Teramo con la sua seconda squadra imbattuta la formazione di Settimio Massotti che alle sue spalle ha messo le due favorite alla vigilia del campionato per il salto di categoria ovvero sia il Monteprandone che il Città Sant'Angelo vediamo se la Serie A2 si ferma e riposa al contrario il girone Abruzzo Marche di Serie B procede spedito e viaggia verso la dodicesima giornata di regular season le abruzzesi coinvolte saranno tre in virtù del turno di riposo da osservare per il Chieti ma ciò che più entusiasma è naturalmente il discorso legato all'alta classifica e quindi alla lotta per la promozione l'impressione è che Teramo possa andare avanti sul velluto nella trasferta di Chiaravalle è un testa coda con i ragazzi di Settimio Massotti primi imbattuti o opposti dal calendario all'unica formazione del girone che non ha ancora invece racimolato tutti fino ad ora insomma pronostico chiuso e favorevole a Forlini e Company trasferta non semplice invece per Città Sant'Angelo a meno sei dal primo posto gli Orange che nel turno scorso hanno vinto agevolmente il derby contro Pescara 25-16 il finale fanno visita alla Cussancona all'andata Città Sant'Angelo si era imposta col finale di 28-21 duello fuori casa da prendere comunque con le pinze il programma si completa con il match tra Handball Club Pescara e Falconara poche pretese di classifica per entrambe ma gli Adriatici imbottiti di ragazzi provenienti dal settore giovanile proveranno a vendicare il 24-19 del girone di andata vediamo in grafica anche la classifica del campionato di serie B come dicevamo prima del servizio Lions Teramo al comando con 20 punti seguita poi da Monteprandone Città Sant'Angelo e via via più staccate però tutte le altre formazioni con gli asterischi ovviamente andiamo ad indicare quelle che sono le partite da recuperare vediamo anche il prossimo turno in rapida sequenza con Monteprandone Cingoli il derby marchigiano che apre il programma e poi domenica Teramo che affronta il Chiaravalle in un testa coda favori del pronostico completamente sbilanciati verso Teramo Cus Sancona Città Sant'Angelo Handball Club Pescara Falconara Franco un giudizio anche sugli equilibri di questo campionato dove Teramo sta dimostrando di meritarsi il primato della classifica Sì c'è stata una crescita esponenziale dei ragazzi che avevano meno minutaggio diciamo così nella prima squadra devo dire che Settimio insieme a Franco Di Giacinto stanno facendo un ottimo lavoro il campionato devo dire anche interessante per esempio io domenica scorso ho visto la nostra squadra giocare con l'Ancona l'Ancona è stata sempre avanti per tantissimo tempo per Città Sant'Angelo non è facilissimo andare a vincere ad Ancona loro già hanno fatto un passo falso a Cingoli e poi abbiamo perso con noi e con Monte Brandone come dicevi tu erano le candidate soprattutto Monte Brandone la candidata a salire e invece siamo stati devo dire siamo stati la sorpresa perché nessuno si aspettava un escalation così merito a tutto lo staff tecnico vedremo vedremo indubbiamente come andrà continueremo a seguire naturalmente le vicende del campionato di Serie B in grafica vediamo anche e ci affacciamo anche sui campionati giovanili vediamo come sta andando sia nel campionato Under 17 maschile anche in questo caso abbiamo Teramo al comando della classifica con 10 punti seguita da Silvi poi Handball Club Pescara Chieti e Nuova Handball Teramo queste sono le formazioni che partecipano al campionato Under 17 e con la promessa alla presenza anche di Franco Cocchionchio che andremo a raccontare anche più da vicino quello che succede nei settori giovanili delle formazioni abruzzesi in un periodo come dicevamo per nulla semplice perché fare pallamano e fare sport a livello giovanile in questa fase è veramente complicato qui abbiamo invece la classifica dell'Under 17 femminile un campionato piuttosto ristretto con Lions Teramo Camerano e Chiaravalle tra l'altro squadre che sono anche costrette purtroppo a viaggiare ma come dicevamo le difficoltà da questo punto di vista sono innegabili in questo fine settimana si apre anche il campionato Under 15 questa è indubbiamente una bella notizia e insomma in qualche modo comunque si prova ad andare avanti sì dobbiamo ripartire dopo due anni di pausa per Covid e soprattutto quello ci è mancato tantissimo non essere potuti entrare nelle scuole dove soprattutto a livello giovanile l'Under 13 l'Under 15 dove si costruiscono le squadre tutti hanno avuto problemi chiaramente e adesso sì come dici tu si riparte con tanto entusiasmo e andiamo avanti così siamo in chiusura Alessandro Cavo grande carica però eh siamo pronti per andare in Turchia assolutamente grande la medaglia non scherziamo forza azzurri forza azzurrini in questo caso grazie a Franco Chionchio buon lavoro a Franco Chionchio e al comitato regionale FGH Abruzzo ancora grazie ad Alessandro Cavo per essere stato con noi buon viaggio verso la Turchia e lo ripeto ancora una volta non mi stanco mai di dirlo forza azzurrini con la casa della Palamaro noi ci ritroviamo la settimana prossima sempre qui su Rete8 Sport augurio che rimane sempre il solito buona Palamaro a tutti alla prossima a presto a presto